E allora questa è la prima campana al mino 49 al prossimo giro la prima segnazione di punteggio Due punti alla numero 838 un punto alla numero 81 Campana di mino 47 arrivano faccio fuori rapida faccio fuori entra entra 32 due punti due quattro quattro un punto cerchi cerchi stai là stai là non hai paura andiamo meno 45 punteggio 142 due punti 161 un punto ora dai salto salto avanti avanti seguile seguile avanti campana di mino 43 82 punti 142 un punto retta 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 rigusi subito adesso adesso ho più fuori in arriva retta allora al mino 41 e viene posticipata ancora la prima eliminazione a meno 17 da due da due segnazione punteggio 32 due punti 41 un punto avanti stai là cerca d'attacca mino 39 al passaggio 161 due punti 32 un punto vai avanti avanti ok recupera entra però entra entra salto 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 l'uva salto l'uva assegnazione 82 punti 81 un punto salto occhio l'uva l'uva la prima eliminazione viene ancora posticipata meno 15 in accelerazione ora subito salto 2 1 4 4 2 punti 1 4 2 1 punto e stai là entra 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 meno meno 33 prima eliminazione ancora più avanti a meno 9 stai solo dietro stai là stai là stai là stai là stai là al passaggio 142 2 punti 244 un punto occhio 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 fuori stai là stai là stai là recupera segui e basta segui e basta siamo a meno 31 al passaggio l'eliminazione ancora più avanti 7 così va bene recupera recupera però punteggio 161 2 punti 81 1 punto quando rallentano va in testa respira avanti 1029 al passaggio per la testa calma 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 va bene calma stai là stai là fatti portare 82 punti 241 un punto la prima eliminazione sarà a meno 3 oggi ora non chiude non chiude niente meno 27 27 21 2 punti 2 4 4 un punto dai prendila che andate in due prendila così brava e poi arriva dietro eita sali eita prendi il buco prendi il buco cambia 244 2 punti 21 un punto go 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 non prendere il buco meno 23 3 scelta i due punti dai assegnazione il punteggio 21 2 punti 2 4 4 1 punto quasi mezza pista quasi mezza pista meno 21 meno 21 anche per il gruppo elastica in uscita elastica in uscita assegnazione punteggio 2 4 4 2 punti 21 1 punto go 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 speed fast siamo a meno 19 per la testa Federico dovete camminare un po' di più ci sarà una sola eliminazione a meno 1 punteggio 2 punti ad a 21 un punto al numero 244 Siamo a meno 18 per il gruppo dai dai veloce in uscita su meno 17 invece per la testa dai dai fede che frambole vedete dai 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 esci la vita in uscita assegnazione punteggio 2 4 4 2 punti 21 1 punto meno 16 per il gruppo go 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 meno 15 per la testa Federico se si ti anda devi si guida sola dai esci due punti alla numero 21 un punto alla numero 244 meno 14 per il gruppo sempre è così in uscita più rapida siamo a meno 13 per la testa bene mantieni il ritmo mantieni il ritmo assegnazione punti due punti alla 244 un punto alla numero 21 meno 12 per il gruppo dai dai meno 11 per la testa dai dai Fede dai a meno 8 è forza dai punti 21 244 un punto segui entra dai stanno aumentando dai 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 siamo a meno 9 dovete aumentare Fede dai punteggio 2 44 due punti 21 un punto occhio Fede accelera di stanno sotto dai attenzione dai siamo a meno 7 ricordiamo che la prima eliminazione l'unica sarà a meno 1 dai così 30 metri dietro stanno dai 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 Siria appena si fermano 244 due punti 81 un punto attaccati 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 subito dove passano via vai 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 andiamo andiamo vai vai piglia la scena subito vendila assegnazione punteggio 32 due punti 81 un punto seguito l'ultimo 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 giro 2 punti numero 32 un punto numero 140 attaccati 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 via attaccati via siamo arrivati alla campana dell'ultimo giro giro finale finale 3 punti alla numero 38 2 punti alla numero 140 un punto alla numero 80 questo è il traguardo finale bene